E' ripartita all'Università della Calabria la rassegna promossa dall'associazione Il Filo di Sofia denominata Milf ed ospitata dall'aula F2 del Cubo 18C. Una rassegna musicale ricominciata con il live di Comaneci rivendicare oggi il proprio essere indipendenti. Il secondo appuntamento si è incentrato invece sulla letteratura e l'arte ed ha fatto registrare la presenza di Nicola Laggioia, scrittore ed editor per la Minimum Facts con cui si è discusso d'anime, d'animali e palazzinari, a partire ma non solo dal suo ultimo romanzo intitolato La Ferocia che lo scrittore sta presentando in giro per la Calabria. Di fatto poi questo è un romanzo, non è un saggio di sociologia o di teoria politica e quindi tutto questo viene incarnato da una famiglia appunto di palazzinari come recita il titolo di questo incontro che facciamo stasera, è la storia di una famiglia del sud di Bari in cui il denaro, il marciume, il denaro e la corruzione vanno un po' di pari passo. Se non fosse queste famiglie a un certo punto nascono anche per fortuna dei figli sbagliati. Ma in realtà bisogna vedere poi all'interno sia delle case editrici per esempio tecnicamente indipendenti, sia delle case editrici tecnicamente dipendenti da qualcun'altra, che cosa vuol dire avere indipendenza. Avere indipendenza vuol dire farlo, faccio un esempio, io sono uno scrittore lento, scrivo un libro, pubblico un libro ogni cinque anni, all'interno della renaudio da questo punto di vista mi sento un indipendente, nel senso che la case editrice magari avrebbe voluto che pubblicassi un libro ogni anno, ogni due anni, ma nel momento in cui noi siamo addivenuti all'accordo che c'è totale libertà da parte mia di scrivere quello che voglio, ovviamente ho una controparte, uno sparring partner che è un editor bravissimo, però non è mai in positivo, ha sempre una funzione maieutica. E dall'altro il fatto che un libro è finito quando è finito, quindi può essere finito dopo un anno, dopo due anni, dopo cinque anni, dopo dieci anni, allora io lì riesco ad avere una mia indipendenza condivisa dalla case editrice, che tecnicamente non è una case editrice indipendente. A proposito della musica, questa cosa qui, questo ragionamento qui per esempio, lo faceva negli anni 80 e 90, quello che è stato il gruppo indipendente per antonomasia proprio della scena rock italiana, che è prima delle varie sbornie mistiche, che erano i CCCP e i CSI. Durante la serata poi, in esposizione, la mostra di Roberto Gentili dal titolo Face to Face, Art to Art.